turagua turagua allora ragazzuoli bentornati guida mirco per una nuova analisi oggi siamo nella nuova combinazione turagua con le formula 1.6 formula ford 1.6 van diemen sempre con irt italia racing team andiamo a vedere questo giro auto sicuramente divertente è un circuito diciamo un po start and stop tranne le prime due curve dopo sono tanto tanta frenata e tanti tornanti vedrete un circuito molto start start and stop allora auto a quattro marce si parte con il giro di terza partiamo terza si arriva a mettere la quarta in curva 1 si stacca precisamente qui quando vedete che finisce l'asfalto chiaro e inizia quello scuro non bisogna fare una staccata della vita perché sennò si va immediatamente al bloccaggio ovviamente non ha né traction né abs questa formulina e bisogna fare una frenata appunto non al cento per cento dobbiamo iniziare sì magari abbastanza intensa ma dobbiamo anche in questo caso far puntare l'anteriore dell'auto verso il primo cordolo e tagliarlo non non bisogna tirare la staccata appunto nella vita io qua tiro via solo una marcia a proposito la faccio di terza ho visto che c'era chi la faceva anche di seconda io la faccio di terza e ripeto non bisogna tirare qui la staccata del secolo bisogna fare una frenata che ti aiuti a indirizzare l'auto all'interno della curva dopo si farà così questa curva si taglia il primo cordolo a destra si taglia anche quello sinistra e si va sull'altro cordolo di destra praticamente bisogna infilzare l'auto a destra e poi andare dritti adesso ve la faccio vedere staccata terza auto dritta taglia e taglia anche qui ok ve la faccio rivedere ripartiamo dall'inizio del giro quarta terza si cerca di tagliare qua non sono riuscito a tagliare perché come avete visto l'auto mi è partita un po di posteriore comunque lì il top sarebbe arrivare farla puntare bene ma è difficilissimo è difficilissimo e poi procedere dritti procedere dritti praticamente tagliare questa chicano ok poi si arriva alla prossima curva dove si frena praticamente quando qui in parte inizia il primo cartello ford anche qua non è una staccata della vita è una staccata decisa ma non super affondata diciamo anche in questo caso dobbiamo cercare di far puntare l'auto verso l'interno della curva puntare il cordolo e questa curva avrà tanto spazio sarà è una è una raggio variabile questa curva perché è composta una prima parte che circa 90 gradi e poi va a congiungersi in una chicano destra sinistra quindi noi dobbiamo puntare qui a stare molto vicino al cordolo e dobbiamo poi puntare a non andare troppo larghi dobbiamo stare anche qui il più interno possibile ovviamente non dobbiamo puntare a stare tutto a destra perché se no perdiamo troppa velocità ma comunque non dobbiamo allargare troppo l'uscita dobbiamo cercare di stare il più interno possibile perché poi ci sarà appunto questa chicana che sarà destra sinistra che dobbiamo fare in pieno ora la vediamo si frena ripeto quando inizia il primo cartello ford frenata lieve non troppo affondata io la faccio di seconda si cerca il cordolo si sta tutti interni sopra il cordolo destra e sopra il cordolo sinistra poi qua iniziano i tornanti qui si stacca precisamente qui dove vedete questa linea nera che non ho capito se è un riflesso non c'è un'ombra scusate o se è veramente l'asfalto così comunque prima dei 50 metri c'è questa linea nera in terra e qui è la staccata è l'unico tornante che vedremo dove bisogna fare una traiettoria normale ovvero arrivare fare una frenata dritta 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 fino in prima e poi stersiamo tutto di colpo per fare il tornante un po come curva 2 di magione che è lo scorso video si fa così questa ok quindi staccata dritta da terza mettiamo prima e giriamo l'auto tutta d'improvviso ok è l'unico tornante perché i prossimi tornanti poi non varrà più questa regola ma vedrete tra poco quindi arriviamo terza seconda prima si gira tutto in un tratto e via si sfrutta tutta l'uscita fermiamo in questi tornanti come vi dicevo prima non ci sarà più da sfruttare tutta la pista bensì ci sarà da stare più o meno non dico in mezzo alla carreggiata ma tra l'esterno e il centro ok tra l'esterno e il centro dobbiamo posizionare l'auto ok a un tre quarti a un tre quarti anche qui la tipologia di frenata sarà la stessa perché sono blocchiamo però possiamo fare questa traiettoria particolare perché c'è molto spazio fuori c'è molto spazio e ho visto che si guadagna parecchio senza sfruttare proprio tutta la carreggiata tutta la pista qua non non vale questa regola adesso vediamo si tiene di seconda vedete che non sto proprio tutto esterno prima dopo c'è tantissimo spazio qua purtroppo non ha trazionato bene ma c'è tantissimo spazio e si va fermiamo un attimo per spiegarvi qui si arriva all'ultima curva dobbiamo cercare di arrivare alla staccata dritti quindi qua su questo rettilineo ci saranno due curve due leggeri curve che si fanno in pieno per poi fare tornante dobbiamo cercare di avere una traiettoria più dritta possibile quindi adesso qua siamo tutti a destra quando finisce questa lunga curva a destra ci prepariamo a sinistra ma anche in questo caso non cerchiamo di sfruttare tutta la pista anche qua cerchiamo come la curva precedente di stare un po tre quarti non in mezzo la carreggiata ma neanche totalmente all'esterno ok dobbiamo fare come ho detto esattamente una staccata con le ruote dritte adesso la vediamo stiamo tutti a destra ci spostiamo poi verso sinistra staccata dritta prima dei 50 metri prima la facciamo ruotare bene e anche quella trazione essenziale e poi bam sul traguardo ecco qua un giro di turagua ragazzi se vi è piaciuto questo video lascia un bel like iscriviti al canale per non perderti le prossime analisi adesso ti lascio al giro completo senza il mio commento ciao 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 ciao